Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Qual è il problema? Non so quanti di voi conoscano questo grafico e non so quanti di voi conoscano l'Earth Overshoot Day, ovvero è il giorno in cui la Terra sostanzialmente esaurisce le risorse rinnovabili. L'anno scorso, ovviamente vedete il trend, l'anno scorso è stato il 28 luglio e credo sia abbastanza preoccupante come cosa. Un altro problema grosso è la carbon footprint, ovvero che cos'è? Questa è la definizione che ho trovato, ovvero the life cycle carbon equivalent emissions and effects related to a product or service. Nel 2016 il World Economic Forum ha definito, ha classificato il riscaldamento globale come la minaccia numero uno per la società e per l'economia, perché essendo il World Economic Forum pensare anche a quello. Da questo grafico della carbon footprint possiamo vedere, più o meno vedere, perché mi sa che è piccolino, che il contributo, quello che io ho cerchiato in rosso, dato dall'energia elettrica e riscaldamento è il 18%, quindi non è trascurabile. E' abbastanza, è uno dei, credo il più alto, se non ricordo male, è il più alto, no, no, poi c'è industry in generale che però è il 19% qualcosa, quindi non è che c'è un grosso scarto. Vuol dire 2,3 terawatt circa, che sono 20.150 terawatt ora ogni anno, ok, che vengono consumati. Questa l'ho messa questa mattina, perché venendo qua, proprio all'inizio di questa via ho trovato il Fight Global Warming, quindi mi piaceva metterla per come ricordo, come Memento Mori, ecco. Quindi l'impatto del WWW, qual è il contributo che dà la rete alla carbon footprint, a quella porzione di carbon footprint? Circa il 3,6%, 6,2%, ci sono questi margini molto ampi, perché ho scoperto, facendo la ricerca, diciamo, per il talk, che è davvero difficile stimare qual è il consumo elettrico di, ovviamente, un'infrastruttura come internet, no, quindi non solo i server, tutto. Ma anche in generale, anche cose più semplici, è difficile non tanto capire, ma mettersi d'accordo, come al solito, su che cosa entra nel computo, quant'è il contributo reale, quello stimato, eccetera, eccetera. Per cui ci sono, insomma, c'è una forbice abbastanza grossa, ma ci accontentiamo, ecco. I server, come vedete, sono circa 18.8 gigawatt su 84, prendiamo il total power, ecco. Ovviamente, l'energia che un server web consuma è proporzionale al traffico che il server web deve sopportare, deve soddisfare. Ho trovato questo bel grafico, diciamo, su Cloudflare, che ci fa vedere, tra tutte le richieste che arrivano ai server web, quali sono fatte da esseri umani e quali da bot. Ok, quindi, richieste da esseri umani, qualcuno va, naviga il sito, si guarda le pagine, no? Bot sono richieste automatiche, andremo a vedere poi, durante il talk, un po' a cosa serve. E è circa il 30%, 32%, io questa l'ho presa a marzo, ma avevo visto a febbraio, era il 32%, insomma, è una circa, siamo in questo ballpark, ecco, tra 28, 32, 33% di richieste automatiche. Quindi, non richieste soddisfatte a fronte di un utente umano. Quindi, che cos'è un bot? Bot. È anche chiamato crawler, è anche chiamato spider, bot è la contrazione di robot, e quindi è un termine generico che è utilizzato per definire un agente che, in maniera programmatica, visita tutti i siti web, seguendo, diciamo, facendo hopping tra un link e l'altro. È interessante notare, diciamo, come crawler, robot e spider siano tre sinonimi per quanto riguarda il nostro ambito, ma ognuno dei quali si focalizza su una caratteristica specifica di questi agenti, ovvero, se parli di crawler, crawler è qualcosa legato ai tentacoli, quindi una roba che arriva con i suoi tentacoli dappertutto, no? Robot mette in luce, diciamo, la parte automatica di questi agenti, mentre spider fa riferimento a quella che è un po' la metafora storica del www, ovvero la rete, il web, no? Mi piaceva questa cosa. E ovviamente potete capire che i motori di ricerca sono fortemente basati su questi spider, questi bot slash crawler. Quindi come funziona un bot? Adesso lo vediamo, questa è un'immagine riassuntiva, quindi vedete il robottino che va a chiedere al server, il server gli rida indietro qualcosa, il robottino lo analizza e poi si immagazzina qualcosa da qualche parte. Nello specifico, fase 0, quindi, che non c'è qua, la URL discovery, perché non esiste un registro delle pagine web, non c'è un posto dove potete andare, sono elencate tutte le pagine web. Probabilmente c'era all'inizio del www, ma ora è impensabile. Come vengono scoperte le pagine nuove? Appunto attraverso link, navigando link che partono da pagine che Google già conosce. Parliamo di Google, ovviamente la cosa è traslabile, diciamo rigidamente anche su Yandex, Bing, quello che volete. Oppure voi potete, voi nel senso di persone che curano il sito web slash server, per fornire una sitemap che Google consulta per sapere quali link voi mettete a disposizione per l'indicizzazione. Fase 1, quindi, crawling. Quello che viene chiamato Googlebot, che è il bot di Google, utilizza un algoritmo loro proprietario per capire di quali siti deve fare crawling, quanto spesso e quante, scusate, e quale pagine deve visitare durante quel suo giro. La fase 2 è il rendering della pagina, ovvero, la pagina viene renderizzata, non so come, è brutta come parola, però immagino che ci capiamo, ecco. JavaScript compreso, perché il punto è analizzare il contenuto, tantissime pagine web adesso hanno contenuto generato dinamicamente, per cui, se voi tirate su solo l'HTML, è ovvio che vi perdete probabilmente molto contenuto. Fase 3, la fase finale, è quella di indexing o indicizzazione, per cui, la pagina, che è stata analizzata dal bot, viene inserita nel Google Index. Gli vengono attaccate tutte delle metriche che sono utilizzate per il ranking di quella pagina, ovvero per definire quanto quella pagina è importante, quanto quella pagina è autoregola, e quindi la visibilità, sostanzialmente, e gli vengono appiccicati altri metadati vari che Google consuma, come meglio crede. Quindi, una delle cose importanti da capire è che non è che una volta il bot arriva alla pagina, la visita e fa tutta questa storia, ma questa operazione continua nel tempo, per sempre, mettiamola così, perché? Perché il Google Index va aggiornato, voi cambiate una pagina, volete che il vostro cambiamento venga riflesso dal motore di ricerca. circa Googlebot ogni 4-30 giorni, in base all'attività del sito, passa e rifà tutta questa attività. Ok? Avete un sito statico, non so, poco aggiornato, allora Google se ne accorge e passa molto di meno rispetto che è un sito con tantissimi aggiornamenti, tantissimo traffico. Quindi, domanda, è possibile limitare ragionevolmente, intendo questo traffico, perché è chiaro che voi potete chiudere le porte, e dite, no, Google, nessun motore di ricerca può indicizzare il mio sito, però, insomma, non è utile neanche fare un sito a questo punto, per cui, tra parentesi, dovrebbe esserci un è possibile limitare ragionevolmente questo traffico automatico. La risposta è sì, perché se no non sarei qui, potrei uscire adesso, ciao ragazzi e ragazze. Ci sono diverse strategie di mitigazione che possiamo mettere in pratica, partendo dai metodi tradizionali, mettiamo così, quindi quelli che magari già molti di voi hanno utilizzato. Il file robots.txt che cos'è? È un file di testo per cui voi, attraverso il contenuto di quel file, istruite i vari crawler, dei vari motori di ricerca, su quali URL possono visitare del vostro sito. Il robots.metatag, che è un metatag che potete specificare nel led della vostra pagina HTML, a cui potete associare tra i altri vari valori, il valore no index o no follow, ovvero no index vuol dire Google bot, ad esempio, non indicizzare questa pagina, no follow vuol dire non seguire i link che ci sono in questa pagina, indicizza questa pagina, ma non muoverti da questa pagina. C'è la Google Search Console, che è il metodo più a alto livello, mettiamola così, anche questo credo sia uno strumento abbastanza utilizzato e conosciuto, che vi mette a disposizione un'unica funzionalità, che è la limitazione della crawl rate, e poi c'è l'attributo rel dei link, che potete, è ovviamente opzionale, e qui, per ogni link che voi avete, potete specificare il valore di questo attributo come no follow, per cui quel link non verrà seguito. Vi diamo alcuni esempi. Robots.txt, come vedete, è abbastanza semplice la sintassi, cioè, in questo caso, voi avete la specifica dello user agent, ovvero, qual è sostanzialmente il motore di ricerca che voi andate a definire come deve comportarsi, in questo caso Google, perché è il Google bot, gli dite una directory, ad esempio, che non volete che venga seguita, in questo caso si chiama no Google bot, la seconda parte, invece, questa, diciamo, vuol dire lo star, espressione regolare, vuol dire tutti i bot, quindi a prescindere da quale motore di ricerca arriva, gli si permette di visitare tutto il sito, perché parte dalla root del motore di ricerca, e poi gli si dice anche la sitemap del mio sito sta qui, quindi lì ci sono più indicazioni, sperabilmente. Robots metatag, voi avete il vostro add, vedete che dopo il char set, car set, char set, avete la specifica del metatag robots, e gli potete dire index follow, e poi tutta una serie di altri parametri abbastanza granulari, ad esempio quanto volete che sia grossa l'immagine che Google usa come preview, quanto volete che siano lunghi in carattere gli snippet, in questo caso meno uno, vuol dire non c'è limite, e appunto max video preview è se ci sono dei video, la preview quanti secondi deve durare, meno uno, la stessa cosa, dura tutto il tempo del video, Google search console è semplicissima, avete un toggle, gli potete dire ok, Google fai come vuoi, se no gli chiedi per favore di fare un po' di meno, basta, l'attributo rel è ancora più semplice, diciamo, dite questo link non lo segui, fine, e lì il crawler forse non entra, quali sono le limitazioni scusate perché qua si è oh, grazie, ok, quali sono le limitazioni di questi metodi tradizionali, forse devo accelerare un po', robots.txt non è sempre possibile che voi lo possiate modificare direttamente, cioè magari non gestite voi tutto, non potete metterci le mani, non è comunque alla portata di tutti, perché non tutti sono tenuti o possono sapere come mettere le mani in un file comunque delicato, perché potete fare dei danni abbastanza grossi per la visibilità del sito se non sapete cosa scrivere, robots.metatag dovete specificare pagina per pagina e allo stesso modo è limitato a resource HTML, quindi tutto quello che è ad esempio immagini, contenuto multimediale non potete dominarlo con questo, ancora non è alla portata di tutti perché diciamo si parla in senso largo di programmazione, la Google Search Console non c'è sostanzialmente granularità, avete quella unica opzione e l'attributo URL ha efficacia limitata che cosa vuol dire che sostanzialmente voi state chiedendo ai crawler per favore puoi evitare di entrare qua dentro però non c'è garanzia e poi ovviamente dovete specificarlo per ogni URL c'è un approccio diverso che si può seguire che è specifico per WordPress e prevede l'utilizzo degli hook per evitare la creazione di URL che non sono utili spesso ok quindi qua è chiaro che entriamo un po' in un territorio dove alcune cose le dovete fare se sapete cosa state facendo ad esempio FIDRSS quanti di voi sanno cosa sono i FIDRSS ok vuol dire la sigla l'acronimo Really Simple Syndication ed è uno standard per pubblicare e distribuire gli aggiornamenti dei contenuti ok era molto utilizzato negli anni passati nel decennio passato di sicuro adesso è ancora comunque abbastanza utilizzato che cos'è uno stream XML che un content provider che potreste essere voi che avete il vostro sito mette a disposizione chi è interessato a ricevere aggiornamenti del vostro sito o comunque di quel sito si iscrive diciamo a questo si abbona si iscrive al feed e attraverso dei newsreader o comunque degli aggregatori anche può essere diciamo avvertito quando ci sono delle modifiche degli aggiornamenti ed è utile appunto per fare news aggregation voi seguite diversi siti avete un rss feed reader che raccoglie tutti gli aggiornamenti di tutti i siti quindi voi avete un unico posto dove andare a vedere che cosa è stato aggiornato è una bella è bello il problema qual è tra i tanti è che wordpress genera un global feed questo automaticamente cioè voi lo fate per ogni vostra pagina o meglio cioè questo è il feed generale del vostro sito gli aggiornamenti poi c'è un feed per ogni commento un feed per ogni commento di ogni post un feed per ogni pagina autore uno per ogni post type uno per ogni categoria uno per ogni tag uno per ogni tassonomia custom e uno per i risultati di ricerca ora ci sono anche quelli atom che è un altro standard per gli rss fatico a credere che uno abbia bisogno di tutti questi cioè per carità diciamo il mondo è estremamente vario quindi ci può essere anche il caso in cui qualcuno utilizzi tutto però insomma mi sembra un po' strano altro tipo di link spesso non utilizzato o embed che cos'è? è uno standard che permette di fare l'embedding di risorse web l'API è molto semplice e diciamo quando si parla di embedding vuol dire che voi fruite di una risorsa che sta da una parte nella pagina che state visitando quindi il vantaggio è che non dovete spostarvi di pagina per accedere alla risorsa embedded si è piccolino qua potete vedere un esempio di richiesta o embed che come vedete è abbastanza semplice cioè il sito è Flickr non so quanti lo conoscano ancora lo utilizzino gli dite il formato che volete in quel caso JSON e gli dite l'URL la risposta è questa è un JSON con un po' di metadati e con quello che voi volete embeddare nel caso di un post WordPress vengono generati due link embed che sono la stessa cosa fondamentalmente soltanto che uno è XML e l'altro è JSON la stessa cosa l'APJSON REST che cos'è? è un'interfaccia che vi permette o meglio che permette delle applicazioni terze di interagire con WordPress avviene attraverso lo scambio di messaggi JSON come standard dell'API REST e WordPress cosa fa? pubblica questi URL che sono chiamati endpoint che rappresentano le varie risorse e come è possibile interagire con queste risorse le poste le tassonomie eccetera eccetera questo è un esempio in più avete gli short link ovvero sono una versione accorciata di un URL in questo caso vedete quel più uguale a uno è il primo post del vostro blog questo succede nonostante a prescindere dal formato dell'URL che voi avete deciso di utilizzare per il vostro sito soluzione manuale a tutto questo macello di link abbiamo questa direttiva che è la remove action che l'API di WordPress ci mette a disposizione e quindi potete decidere di rimuovere selettivamente tutti questi link tutti questi URL ad esempio per i feed RSS voi avete remove action feed link links extra per oembed avete quest'altra adesso non ve li sto a leggere letteralmente per l'API REST avete questa coppia di remove action per gli short link questa c'è una proposta per un controllo più granulare perché abbiamo visto che per i feed RSS ne vengono generati tantissimi alcuni potrebbero essere oggettivamente utili cioè immagino che magari una persona voglia mantenere il feed generale del sito quando cambia qualcosa quindi non togliere proprio tutto tutto questa proposta è una patch che è stata presentata durante il WorldCamp EU22 2022 da Lopo Enrico che è lui e è disponibile da WordPress 6.1 e effettivamente vi dà una granularità molto molto ampia diciamo quindi potete decidere cosa tenere e cosa togliere più che altro cosa togliere non siete particolarmente pratici ci sono delle plug-in specifiche che vi permettono di togliere dei link specifici ad esempio vi ho fatto alcuni esempi qua o Embedder API o LeanOne e poi questo sono i miei colleghi che hanno fatto hanno iniziato a sviluppare questa plug-in che si chiama EcoMode a chi ha vinto al Cloudfest di quest'anno l'Hackathon che vi permette fondamentalmente di ottimizzare le richieste che WordPress fa in maniera ricorrente specificando il throttling di queste richieste quindi è un pochettino più non è ancora utilizzabile infatti stanno cercando contributor per cui mi raccomando fatevi sotto perché è davvero bella come iniziativa secondo me dopo aver visto queste strategie di mitigazione a quella che è l'architettura basata sui porca miseria ok basata sui bot è possibile un'architettura alternativa ovvero cosa succede attualmente abbiamo visto i motori di ricerca visitano tutti gli URL indipendentemente se sono aggiornati o meno ok quindi possiamo dire che è una strategia di tipo pool l'approccio inverso quale può essere che chi genera i contenuti chi li aggiorna va a pingare i motori di ricerca gli dice guarda che questa cosa è stata aggiornata ok quindi un approccio di tipo push quali sono i vantaggi maggior visibilità nel senso che il tempo che intercorre tra quando voi pubblicate qualcosa e quando il motore di ricerca si accorge è tempo che voi perdete in visibilità ok e poi minor traffico inutile perché appunto magari invece contrariamente voi non aggiornate niente ma ogni tot i bot continuano a passare c'è questo protocollo index now si chiama che consente appunto di inviare ai motori di ricerca un ping relativo ad un URL che è stato cambiato modificate il contenuto create i contenuti cancellate i contenuti sono tutte azioni che possono pingare i motori di ricerca l'API è davvero semplice e quali sono i vantaggi è supportato da più motori di ricerca adesso Yandex Bing e Setsnam Google sta valutando se supportarlo o meno e poi permette di utilizzare un ping solo per più URL cioè voi aggiornate 30 pagine non mandate 30 ping e mandate uno e gli dice sono aggiornate queste 30 pagine la cosa ancora più bella diciamo è che questo ping si propaga tra i motori di ricerca pingate un motore di ricerca supportato e tutti gli altri raccolgono diciamo il segnale mi sono dimenticato di dirvi che sia per quanto riguarda l'ottimizzazione del crawling che index now la plugin Yoast versione free supporta tutto questo ok quindi non vi sto vendendo la plugin la versione gratuita supporta tutto questo in maniera abbastanza intuitiva direi quindi ce l'abbiamo fatta quali sono i key take away abbiamo visto che una porzione rilevante diciamo di traffico è dovuta a robot quindi non interattiva questa attività ha un impatto rilevante sul consumo energetico e quindi sull'ambiente si può limitare questo traffico tra l'altro aumentando la performance del server web del sito e limitando il consumo di energia ci sono delle buone prospettive perché comunque index now nonostante non sia ora supportato da google comunque qualcosa ha mosso e magari nel futuro google lo supporterà sarebbe un grande passo domanda è vero che cambiamo il mondo sfortunatamente no nel senso che noi con tutto quello che vi ho detto oggi ci posizioniamo nella low impact ok però se guardate che cosa c'è nella high impact ad esempio c'è avere uno o meno figli quindi capite che si chiede molto di più chiaramente per avere un impatto rilevante rispetto che quello che vi ho fatto vedere oggi che fondamentalmente ci richiede di muovere le dita e basta una volta quindi diciamo non mi piace autocitarmi però un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo scherzo era di laozze grazie a tutti grazie Paolo provo a non avvicinarmi troppo alla cassa allora se avete domande ok vengo lì o fai pure la ripeto poi no volevo chiedere è vero che l'index now non si è sempre raggiunto però non sbaglio Google mi ha detto la disposizione del API della che hanno sostanzialmente gli stessi preparanti di data sì 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 però l'approccio di index now è più ottimizzato cioè il fatto di avere un ping per cento pagine che si propaga capito e Google e Google comunque l'ho provato però è sicuro che dovrebbe prendere la modifica in quella di 24 ore però non sono certo che sia sì 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 cioè diciamo la mia reazione non è perché Google è cattivo è perché è davvero difficile assicurare con un'infrastruttura come quella di Google e quella sottostante della rete entro 24 ore il tuo aggiornamento è visibile dappertutto però vabbè va bene per spingere un po' è un passo infatti le prospettive sono incoraggianti ecco altre domande te lo passo più che altro è un'osservazione cioè tutte queste cose funzionali possono aiutare ovviamente nei limiti come abbiamo visto però finché secondo me non diventa uno standard questa cosa non funzionerà mai cioè adesso esagero ma secondo me il 90% delle persone che ha fatto un sito web non fa nulla di tutto ciò neanche indicizzare partiamo proprio a monte quindi andargli a proporre di fare poi determinati passaggi secondo me è complicato o appunto diventa uno standard che allora lì si va sul sicuro per quanto l'impatto appunto sia minimo però sempre meglio di niente o altrimenti è veramente complicata sì infatti diciamo sono i grossi player che devono muoversi per fare un po' di proselitismo nel senso io sono qua rappresento Yoast è da un paio d'anni che noi ci stiamo muovendo in questa direzione anche del risparmio energetico appunto prima abbiamo reso disponibile questa sezione di ottimizzazione del crawling per il premium adesso tipo se non sbaglio dall'ultima release che abbiamo fatto è in free proprio per spingere sta cosa perché diciamo l'idea di renderla disponibile per premium era il fatto di dare diciamo queste funzionalità a un ristretto numero più ristretto diciamo numero di utenti e vedere in quanti la usavano se era apprezzata abbiamo visto che è addirittura richiesta diciamo e quindi speriamo però è chiaro che risultati rilevanti si avranno quando o sarà uno standard o comunque diventi uno standard de facto cioè tante persone lo usano già diciamo partiamo bene perché wordpress è installato sul 40% di macchine che hanno siti web per cui diciamo prospettive rose grazie se avete altre domande comunque lui sarà in giro tutto il giorno quindi potete pingarlo in giro per il work camp e basta un altro applauso grazie 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 grazie